Ciao, siamo in diretta, siamo in precessione di San Giovanni, oggi 24 giugno 2012. Ecco, un po' di gente, ciao, da reporter, girate all'altra parte del ponte che è meglio forse. E questa sono le spostate, è piccola, è caldo, siamo a una temperatura, la temperatura. Vai, vai, vai. 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 Grazie a tutti